Amici carissimi, ben ritrovati sui nostri teleschermi, protagonista dell'appuntamento di oggi è la concessionaria Golden Garage, miglior repertorio in circolazione per quanto riguarda l'usato in ambito automobilistico e motociclistico e aprirci le porte di casa è sempre lui, il giovane ma grande professionista Denis Defina. Ciao Denis. Ciao Palma, un ben trovato a te, un ben trovato a tutti voi. E in strada Carignano 54 a Moncaglieri, come dicevamo, i pezzi da 90 in circolazione per quanto riguarda sia le auto che le moto, ma anche un servizio d'eccellenza, non solo vendita, assistenza ma anche permute acquisto del vostro usato e novità assoluta dal 2019, anche noleggio a lungo termine, vuoi parlarcene? Assolutamente sì, partiamo proprio da questa nuova innovazione legata al mondo delle quattro ruote, vi forniremo l'auto che più preferite nell'allestimento da voi scelto con delle rate bassissime, eventualmente anche senza anticipo, per 24, 36 o 48 mesi a seconda di quella che è la vostra esigenza. Vi invito a scoprire quelli che sono i vantaggi non solo per i privati ma anche per le aziende. Tornando al repertorio Golden Garage ho visto che ci sono delle grandi novità. Assolutamente sì, ogni settimana si rinnova il nostro parco auto e moto, abbiamo tanti prodotti a vostra disposizione, sottolineo sia a due che a quattro ruote, abbiamo l'opportunità di ritirarvi la vostra auto in cambio di una nostra moto e viceversa, anche qualora il vostro usato fosse di valore superiore, quindi non è un problema per noi restituirvi la differenza. Sta per iniziare la primavera, la stagione delle motociclette è alle porte, non fatevi trovare impreparati. Qui da Golden Garage troverete moltissima Arlen Davison a vostra disposizione, abbiamo un reparto non indifferente, diversi prodotti, diverse cilindrate e soprattutto per tutte le tasche. Ricordo, è fondamentale che sappiate che come da tradizione familiare potrete comprare la vostra moto con l'operazione 50%, quindi pagarla unicamente la metà e decidere tra due anni se tenerla, restituirla o sostituirla con enormi vantaggi. Si parla di Breakout, si parla di Super Low T, una 1.2 con soli 3.000 chilometri, due 883 fantastica, delle cifre formidabili con pochissimi chilometri. Abbiamo due moto molto particolari, si parla di Springer, abbiamo una Crossbone e una Bad Boy introvabile già ultra ventennale. Tra le moto vedete una splendida Dodge Viper, un prodotto dell'anno 2006, 15.000 chilometri documentati, davvero in condizioni eccellenti, soprattutto ad una cifra formidabile. Continuiamo ancora parlando di Harley, si parla di una splendida Heritage, passiamo a un Road King 1450 accessoriato touring e una splendida Electraglide anno 2010 a una cifra strepitosa. Non solo Harley, qui da Golden Garage abbiamo anche dei Naked a vostra disposizione, si parla di MV, abbiamo sia una 910S che una 1090RR, ancora una Naked d'eccellenza, si parla di una Street Fighter 1098 e ancora mezzi particolari, una BMW 850R Special, una Monster 900 Special e una fantastica Guzzi con reali 50 chilometri. Da venire a scoprire in sede, moto pari al nuovo, ricordo che tutto il nostro usato è acquistabile con l'operazione 50%. E' risaputo che il nostro team sia amante delle auto sportive, ne abbiamo moltissime a vostra disposizione, si parla di auto a partire dagli anni 70, troverete i marchi più importanti presso il nostro showroom, si parla di Ferrari, si parla di Porsche, si parla di Mercedes, auto particolarissime come Lancia Delta, Lancia Fulvia, tantissime auto molto particolari. Abbiamo una Rolls Royce, un'introvabile CL63MG, Porsche ne contiamo diversi, dal Cayman a tutte le versioni del Carrera, quindi 993, 964, 997, abbiamo tantissimi prodotti. Golden Garage non è solo auto di lusso, è auto classiche, ma è anche auto da città. Parliamo di Smart, parliamo di 500 Abarth, una splendida chilometri zero, Bloom in allestimento turismo, una fantastica SS con kit TD04, una classica 135 CV, tantissime altre piccoline, parliamo di 147 GTA, Megane RS, Mini Cooper, una splendida Crossfire, BMW ne contiamo diversi e di tutti i tipi, Z4, M1, 320, abbiamo uno splendido 4,35 diesel, pochissimi chilometri, unico proprietario davvero in condizioni impeccabili, ancora auto particolari, si parla di un fantastico Tiguan in allestimento R-Line, Golf R anno 2017, già restyling, sempre parlando di Golf, un GTD in condizioni eccellenti, super accessoriato, classe A di nuova generazione, si parla di un 160 a benzina, si parla di BMW ancora con un 116 diesel con pochissimi chilometri, Volvo una V40 Cross Country, un altro Golf 1.6 Sportline, una 3 Sportback economicissima, un 308 altrettanto economico in condizioni ottime, una Volvo familiare super accessoriata, 1.9 con cambio automatico, sempre con cambio automatico, una Peugeot 5.8 con pochissimi chilometri, anno 2014 e terminiamo la carrellata su una classe A benzina ad una cifra molto economica, ma in condizioni eccellenti. Siamo giunti al termine, l'ultima carrellata vede auto utilitarie da tutti i giorni, si parla di Alfa Romeo Mito, si parla di Renault Clio, Suzuki Swift, uno strepitoso RAV4, una cifra economicissima al di sotto di 5.000 euro, una Mercedes classe C, un Audi A4, ricordo ne abbiamo un'altra Station Begon con soli 80.000 chilometri, 1.9 turbo diesel con cambio automatico, sempre con cambio automatico, un Paiero 3.2, una versione super accessoriata con pochissimi chilometri, sempre super accessoriato, un Jeep Grand Cherokee e non possono mancare i veicoli particolari, qui da Golden Garage, un fantastico Land Rover Defender anno 97, strepitosamente accessoriato e un introvabile Hammer in edizione limitata. Vi aspetto numerosi e ricordo, strada Carignano 54 Moncalieri, auto e moto.